Prendiamoci un pezzettino di blueberry pie, oddio ce la posso fare Ce le sono sei e mezzo di sera, un po' di dessert, ho tutto pronto per domani devo portare il regalino per il bambino e ora eccolo qui, lo vedete? Help on the shelf, ora ogni giorno, ora la notte torna nel North Pole e racconta tutti i padacci nostri, siamo stati bravi, questo tipo ci sta guardando e dobbiamo essere bravi perché va su al Polo Nord e racconta i padacci miei, i padacci miei a Babbo Natale, capito? Poi ritorno la mattina e ovviamente lo devi spostarlo, questo Help on the shelf, ma da qui a qui, da qui a qui poi va lì, insomma non è che, sta cosa mi rompe alla grande ma devo continuare eccolo lì, non è che viaggia tanto, non è che sposto tanto, ora la notte va a raccontare i padacci nostri no è così, vedete qui il citriolo, è una usanza tedesca, ho sentito, in teoria dovessi metterlo, nasconderlo dentro l'albero in un posto dove veramente nasconderlo e poi chi lo trova ha un regalo in più a Natale lo vedete qui? Ecco perché l'ho scelto, l'avevo e il si era rotto, quindi l'ho ricompatto nello stesso negozio questo Help on the shelf, lo voglio prendere a schiaffi, giuro poi ho la mia tazza che userò, devo decidere quando devo usarla, ancora non l'ho usata e qui ho, è tutto buio lo so, e qui ho questo, questo non so dove l'ho comprata tantissimi anni fa e avevo cioccolatini, hanno finito tutto, quindi domani devo rifornire Grazie Grazie Grazie